Tornano sul palcoscenico del Teatro Reggio di Capitanata, in via Guglielmi, gli spettacoli di Teatro Famiglia. Sabato 9 e domenica 10 aprile, gli spettatori, piccoli e grandi, assisteranno alla magica storia di Pinocchio, che la compagnia MAG porterà in scena sotto forma di commedia musicale. Le due rappresentazioni, che avranno inizio alle ore 17, sono frutto della più che decennale esperienza del MAG, ovvero il Movimento Artistico Giovanile, compagnia teatrale attiva nella proposta scenica di teatro per ragazzi. Composto da artisti e tecnici in prevalenza romani, il MAG annovera tra i suoi punti di forza i foggiani Valeria Nardella e Antonio Cicognara, rispettivamente autrice, regista e attrice la prima, compositore e autore delle musiche il secondo. Gli altri interpreti sono Simone Ruggero, nei ruoli di Geppetto, Postiglione e Mangiafuoco, Elisa Caminada, che sarà il Gatto e Lucignolo, Giorgia Bottistoni, che sarà la Volpe e la Fata, e la stessa Valeria Nardella, ovvero il Grillo Parlante. Assistente alla regia è Elisa Caminada, le coreografie sono firmate da Paolo Cives, scenografie e costumi a cura di Anthony Rosa, Fabio Vasco e Ilaria Setti, che si sono occupati rispettivamente dell'organizzazione dello spettacolo e dell'illustrazione dei personaggi. La messiscena, la magica storia di Pinocchio, rientra nel cartellone della ventesima stagione teatrale della Compagnia Enarchè, preceduta da Carlo Bonfitto, che propone al suo pubblico un'offerta teatrale diversificata, adatta a ogni età e per tutti i gusti.